Cristian Ciccolini V1 Master 40 o Scultero Down ok box 60 centimetri bilanciare il segno di 20 kg raw concept 2 3 calorie 3 secondi aspetta eh aspetta 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 1 via b**** Grazie. 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 7 8 9 3 5 3 4 5 provare il porto 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 18 19 20 20 20 21 22 24 25 26 25 26 27 28 29 30 29 30 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 31 31 31 32 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 34 35 33 33 33 34 35 35 36 36 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 35 36 36 36 37 37 37 37 38 48 29 29 30 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 Venga, venga. Vai! Vai lui! Subito! Vai! Via! Qui secco, rapido, lento, dai! Prendilo subito senza respirare, dai! Via, via! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinco! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci, via subito! Vai! Due! Tre! Sei a tre minuti, zero tre! Quattro, dai! Vai! Cinque! Sei! Sette! Sette! Quattro, dei due! 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 dimmi il tempo che rimane quanto manca? va bene tu, 1,30 1,50 stai 1,45 stai sopra 1,2 stai 1,10 dai, 2,3 forti, 2,3 forti dai, bravo dai, c'hai un minuto dai, vieni qui vai, tira, tira, tira dai, di nuovo adesso ci mancano 40 secondi dai, vai, vai c'hai 30 secondi, c'hai 30 secondi tira, tira, tira tira, 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 tira 20 secondi quello che puoi, dai bravo, secco, dai 10 secondi, quello che c'hai con quello che c'è, dai tira, 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 5, dai secco dai, tira, forte, corte, forte, forte dai, tira, 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 tira tira, 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 tira